Amici tifosi della Ferentina, amici di Firenze Viola.it, benvenuti al consueto appuntamento con il Punto da Moena. Siamo in diretta sulla pagina Facebook di Firenze Viola.it. Un saluto da Tommaso Bonan e un saluto anche da Giacomo Iacobellis qui accanto a me. Ciao Giacomo, ben trovato. Ciao Tommaso, buonasera a tutti. Prima di tutto volevamo ringraziare anche Lorenzo Di Benedetto, Pietro Lazzirini e Dimitri Conti che hanno seguito per Firenze Viola.it. è la prima parte di ritiro, quindi a loro complimenti per l'ottimo lavoro svolto. Siamo qui a raccontarvi l'ennesima giornata di ritiro qui in Val di Fassa, qui a Moena da parte della Ferentina che è stata contraddistinta dalla conferenza stampa di presentazione di Yanis Agi, talento rumeno, che ha parlato. Assieme a Pantaleo Corvino che a margine della presentazione del giovane talento rumeno ha avuto modo di parlare e di aggiornare anche i giornalisti presenti sulle ultime notizie di mercato o comunque su quello che bolle in pentola per quello che riguarda le strategie societarie, le strategie di mercato della Ferentina. Partiamo con le parole di Yanis Agi che è stato uno dei giovani che si sono messi in mostra in questa prima parte di ritiro. Mi sento prontissimo per la prima squadra, questo è quello che ha detto il figlio di Gheorghe Agi. C'è da dire che il talento, Giacomo, lo abbiamo visto, lo abbiamo intravisto, però dal punto di vista fisico, fisicamente, ancora il giovane Agi appare un po' acerbo, soprattutto rispetto ai propri compagni di squadra. Sì esatto Tommaso, un giocatore, le qualità parano da sole, in questi giorni abbiamo visto ottimi numeri da parte del talentino rumeno ma ancora fisicamente lo vediamo un po' troppo gracile per giocare in un campionato molto fisico come la Serie A. Ricordiamo che Corvino lo ha prelevato dal Vitorul, lo ha visionato attentamente, la Ferentina aveva un'opzione per acquistarlo e Corvino è stato in Romania proprio per conoscerlo meglio e per dare l'accelerata a questa trattativa. Ha optato per il sì, anche oggi in conferenza stampa ha ripetuto che si tratta comunque di un calciatore che sarà utile più che altro come prospettiva futura. Eh sì, è indubbio che Giani Saggi si stia giocando le proprie carte già in questi primi giorni con la maglia della Ferentina. Vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina facebook di firenzeviola.it e quindi potete scriverci le vostre domande, porci le vostre curiosità, vi rispondiamo in diretta. In una giornata Giacomo che vede stanno per arrivare due giocatori, non sono due nuovi acquisti ma bensì due titolari di questa Ferentina, parliamo di Ciprian Tatarusano e di Mattias Vessino che stamattina hanno svolto le visite mediche a Firenze e nei prossimi minuti, nelle prossime ore arriveranno qui a Moena per aggregarsi al gruppo di Paolo Sosa. Paolo Sosa che ritrova quindi Vessino in un ruolo che abbiamo visto anche in questi ultimi giorni ha mostrato alcune lacune, non soltanto dal punto di vista qualitativo ma anche dal punto di vista numerico possiamo dire che il rientro di Vessino è sicuramente una manna dal cielo per Paolo Sosa anche per i suoi schemi tattici, le sue prove che sta facendo in questi giorni. Sicuramente, anche dopo l'importante conferma che c'è stata da parte della Ferentina dinanzi alle avanze del Napoli per il centrocampista uruguaiano che ha rinnovato il proprio contratto proprio pochi mesi fa con la Ferentina con una clausola importante al di sopra dei 20 milioni la Ferentina vuole ripartire da Vessino, reduce da una Coppa America non troppo positiva però il centrocampista Ex Empoli e Cagliari avranno sicuramente voglia di mettersi in mostra e avere un ruolo da protagonista con la maglia viola nella prossima stagione. Ne ha parlato di Rossi e non soltanto di lui, Pantaleo Corvino oggi in conferenza stampa ha parlato più in generale del mercato, ha ripetuto un po' quello che è il mantra della Ferentina in questo momento ovvero mantenere lo zoccolo duro e cercare di inserire giovani di prospettiva però ha parlato anche del mercato, ha parlato poi anche dei singoli visto che ce lo chiedono anche i nostri amici sulla pagina Facebook di FirenzeViola.it partiamo da Rossi, visto che è uno dei cinque attaccanti attualmente in rosa ci chiedono se nelle ultime ore Rossi ha sorriso di più rispetto al passato. Sinceramente no, tutt'altro che sorrisi ieri sera abbiamo visto che Rossi è stato l'unico giocatore della Ferentina che non ha voluto prendere la parola dinanzi ai tifosi nella festa viola organizzata qui a Moena un silenzio che potrebbe, che parlerà solo visto che Rossi nelle ultime settimane è considerato quasi in uscita c'è il Bologna forte sul giocatore Corvino oggi ci è andato cauto ha ricordato a tutti che sia lui che Sousa considerano il giocatore un giocatore importante la Fiorentina lo sta aspettando dopo i sei mesi importanti del giocatore a Levante la Fiorentina vuole vedere i progressi soprattutto fisici e anche mentali dell'attaccante italo-americano ma dalle notizie che abbiamo appreso, che abbiamo raccolto in questi giorni su FirenzeViola.it Rossi vuole un ruolo da protagonista che la Fiorentina in questo momento non può garantirgli e quindi la sua situazione potrebbe evolversi e cambiare nel giro delle prossime ore Possiamo dire che dei cinque attaccanti Giacomo attualmente a disposizione di Paolo Sosa l'unico a non essere al centro di voce di mercato è Nicola Kalinic che poi raggiungerà la squadra dopo il ritiro di Moena parlavamo di Rossi dobbiamo concedere alcuni secondi anche a Babacar perché Corvino ne ha parlato ha ribadito anche quella che è la volontà della società non svendere però attenzione perché quando dovesse arrivare un'offerta la Fiorentina la valuterebbe e non poco Il messaggio di Corvino per quanto riguarda il parco attaccante è stato chiaro nessuno sconto né per Gomez né per Babacar anche se il Montengaggi e questioni tecniche ricordiamo che Babacar non ha avuto un grande feeling con Sosa nella scorsa stagione queste questioni potrebbero imporre alla Fiorentina accedere almeno uno dei due attaccanti la Fiorentina però sta aspettando per questo diciamo i tifosi che ci scrivono su firenzeviola.it che le cessioni di Gomez e di Babacar non sono operazioni che verranno chiuse nel giro di pochi giorni servirà a aspettare magari fine luglio o addirittura agosto le offerte ci sono le offerte ci sono perché su Babacar si è mostrato il Sassuolo in Italia e anche diverse squadre di Premier League il suo agente Bastianelli è stato in Inghilterra per incontrare diversi club ma la Fiorentina chiede 10 milioni di euro e sono invece 7 più o meno i milioni che la Fiorentina chiede per Mario Gomez Un giocatore che non è qui nel ritiro di Moena Giacomo è Cristian Teglio che abbiamo visto con la maglia viola negli ultimi 5 mesi di campionato in questo momento il giocatore è un po' nel limbo perché la Fiorentina sta provando a riportarlo in maglia viola ma ci sono da limare alcuni dettagli per quello che riguarda l'accordo eventuale con il Barcellona tu che sei anche abituato e hai avuto modo anche di parlare con alcune fonti direttamente in Spagna quindi dalla viva voce di chi è abituato a trattare anche con Cristian Teglio che cosa possiamo dire anche agli amici che ci stanno scrivendo su Facebook Sì, nonostante le notizie in interesse del Tottenham dello Swans e dell'intenzione del Barcellona di tenere il giocatore almeno per quanto riguarda l'inizio del ritiro dall'entourage del giocatore con cui siamo in contatto anche in queste ore su FirenzeViola.it c'è grande ottimismo la Fiorentina è il desiderio di Teglio Teglio vuole restare a Firenze per dare continuità a quanto di buono era riuscito a mostrare negli scorsi 6 mesi della passata stagione Teglio vuole ripartire da Firenze per avere un ruolo da protagonista che non è mai riuscito ad avere né a Barcellona né a Porto e quindi vuole optare per la soluzione continuità non è facile però chiudere questa operazione lo stesso Corvino oggi in conferenza stampa ne ha parlato ha detto per quanto riguarda Teglio stiamo seminando e speriamo di raccogliere i frutti del nostro lavoro nel giro di poco tempo la Fiorentina vuole rinnovare il prestito del giocatore non vuole pagare i 6 milioni di euro previsti per il riscatto del giocatore dell'operazione realizzata nello scorso gennaio il Barcellona sta tergiversando perché sa bene che potrebbero arrivare soprattutto nella Premier League delle offerte cash subito importanti per andare ad aiutare il club sul grano sul mercato e quindi la situazione è un po' un tiro e molla tra Fiorentina e Barcellona anche se Teglio lo ripetiamo ha già fatto la sua scelta Ancora sulla pagina facebook di Firenze Viola.it rispondiamo alle domande dei nostri amici che ci stanno guardando mercoledì Vessino giocherà beh dobbiamo aspettare innanzitutto che arrivi qui nel ritiro di Moena Paolo Sosa valuterà anche le sue condizioni fisiche dopo il periodo di vacanza post Coppa America certo è che Vessino è un titolare inamovibile di questa squadra quindi sicuramente la qualità del centrocampista uruguayano farà comodo poi vedremo se riuscirà a partire magari dal primo minuto nella prossima amichevole o se comunque continuerà magari un programma personalizzato per recuperare la condizione fisica poi ma perché? ci scrive Andrea nelle presentazioni dei giocatori nuovi nelle maglie non ci sono i numeri beh ancora la numerazione ufficiale arriverà tra un po' di giorni quando poi anche la rosa le rose delle squadre in Serie A saranno più complete saranno in via di definizione poi sempre Andrea ci chiede Van Beck è in dirittura d'arrivo e questo nostro amico ci dà anche un bel assist per parlare del prossimo colpo di mercato che dovrebbe arrivare in Fiorentino ovvero quello del difensore centrale questo sembra essere il nome in polla per quello che riguarda la difesa per quello che riguarda le strategie le idee di Pantaleo Corvino sì quello di Van Beck è sicuramente il nome più caldo in entrata per quanto riguarda il mercato della Fiorentina la Fiorentina ha bisogno di un difensore centrale lo sta cercando da almeno una stagione questo giocatore olandese classe 94 molto interessante gioca nel Feyenoord sembra davvero indirittura d'arrivo dà l'entourage filtra grande ottimismo riguardo alla chiusura dell'operazione nei prossimi giorni potrebbe addirittura arrivare quindi nel ritiro di Moena la Fiorentina ha offerto una cifra intorno ai 4-5 milioni di euro mentre il club olandese per ora ne chiede 6 però tra le due parti capiamo bene che non c'è una distanza incolmabile quindi potrebbe essere un'idea sicuramente interessante salutiamo ancora Davide Brunetti che ci scrive dai forza viola Daniel che ci scrive baciati dal sole beh dobbiamo dire che non ci possiamo lamentare in questo nostro primo giorno di ritiro anche considerando le notizie e anche i video che abbiamo visto con i nostri inviati Lorenzo Di Benedetto Pietro Lazzarini e Dimitri Conti che sotto il punto di vista del meteo sicuramente sono stati meno fortunati di noi poi Andrea ci scrive Fiorentina forte su Rechic questo è un altro nome accostato ai viola sì è un'altra soluzione per quanto riguarda la difesa la Fiorentina secondo quanto abbiamo raccolto ha alzato il pressing è lui la principale alternativa fanback difensore centrale dell'Olympic Marsiglia classe 94 è passato dal Manchester City quindi è un giocatore non è l'ultimo arrivato è un giovane molto interessante che ha avuto modo di fare esperienza in una squadra importante come quella dei Citizens la Fiorentina ci sta provando e ricordiamo che sul mercato olandese i viola si stanno muovendo con grande attenzione principalmente dopo l'arrivo del nuovo direttore sportivo Freitas già noto fin dai tempi dello sport in Lisbona e del Braga per lavorare molto per quanto riguarda il mercato delle redivise stiamo veramente in conclusione però voglio rispondere le ultimissime domande sulla pagina Facebook di Firenze Viola.it sempre per quello che riguarda il mercato perché poi alla fine questo è quello che interessa ai nostri amici a tutti i tifosi della Fiorentina sapere che cosa vuole in pentole per quello che riguarda le idee di Pantaleo Corvino due nomi Bagadur per quello che riguarda la difesa potrebbe far comodo la rosa come l'avete visto abbiamo visto bene non benissimo ma è spuntata anche una squadra su di lui la Salernitana sì la Salernitana vorrebbe riprendere perché ricordiamo il difensore croato giovane molto interessante ha giocato nella scorsa stagione in prestito alla Salernitana ha fatto molto bene nonostante il club non sia andato benissimo durante la stagione la Salernitana lo ha richiesto i due direttori sportivi hanno ottimi rapporti la Salernitana lo ha richiesto ma la Fiorentina per ora ha declinato l'offerta perché ci sono pochi difensori rosa e Sosa vuole valutare attentamente questo giocatore è spuntato negli ultimi minuti e anche nell'ultimo ore il nome di Saponara dell'Empoli questo è un nome deluxe per quello che riguarda il mercato della Fiorentina certo è che costa tanto e sicuramente prima forse andranno pianificate alcune cessioni sicuramente piace il Saponara è un giocatore che è sempre piaciuto al direttore sportivo ora direttore generale della Fiorentina Pantalo Corvino anche se l'operazione al momento da quanto abbiamo raccolto sulle pagine di Firenze Viola.it ci sembra molto difficile a portare avanti legata in primis a una eventuale cessione perché con l'eventuale arrivo di Saponara dovrebbe partire magari Ilicic o un altro trequartista non mi sembra una lacuna in questo momento il ruolo di trequartista nella squadra Viola Ricordando che su Saponara ci sono tantissime squadre in Serie A in primis il e Milan staremo a vedere chiaramente per tutte le notizie di mercato e non soltanto qui dal ritiro vi rimandiamo alle pagine di firenzeviola.it termina qua questa diretta sulla pagina Facebook quindi salutiamo e ringraziamo tutti coloro che ci hanno scritto l'appuntamento a domani come tutti i giorni all'ora di pranzo per darvi anche le ultime il resoconto dell'arrivo qui nel ritiro di Cipriana e di Mattias Vecino i due giocatori della prima squadra che si aggregeranno assieme alla rosa di Paolo Sosa saluto e ringrazio Giacomo Iacobellis ciao Tommaso buonasera a tutti un saluto e un ringraziamento anche da Tommaso Bonanno e buona serata